Nel frattempo si viene da un periodo particolarmente positivo in termini di risultati, non lo era stato forse in termini di salute dei giocatori, c'era stato un po' di influenza, un po' di febbre e così via, però quando si vince poi passa tutto. Sì, ho ricordato che l'influenza a volte può essere più noiosa del Covid, ma tutto passato, questa settimana dove la nazionale ha giocato e i ragazzi sono tornati a casa è stata come al solito un po' sofferta perché chi partiva prima o chi dopo si è lavorato a regimi ridotti, però dobbiamo essere contenti perché adesso abbiamo recuperato anche tutti gli infortuni, sono almeno una settimana, 7-8 allenamenti che abbiamo fatto al completo potendo giocare attacco e difesa, quindi siamo ritornati alla normalità. Ed è per questo che le tre partite che concluderanno la stagione sono particolarmente importanti, lo diciamo sempre, risultati a parte, è perché effettivamente gli infortuni hanno un po' condizionato la stagione, quindi in questo finale avere la squadra migliore possibile è necessario per poi la nazionale. Sì, non dimentichiamoci che noi lavoriamo per la nazionale Under 18 e per poter rendere questi giocatori più completi possibili dal punto di vista della loro formazione e quindi il ritorno nelle loro società, per cui anche questa finale di stagione va in quella direzione, ma oltre a questo c'è anche l'obiettivo di riuscire ad arrivare al quinto posto almeno. Che sensazioni stai vivendo come direttore tecnico sia con i ragazzi del campus in questa fase, che ci avvicina pian piano ai campionati europei, sia a livello complessivo di nazionali maschili soprattutto, vista anche l'esperienza di Merano? Ma allora riguardo al campus diciamo che abbiamo visto quanto è possibile migliorare un ragazzo di 16-17 anni che ha tutte le motivazioni e la disponibilità possibile in un contesto diciamo ideale, qual è quello del campus e del centro federale. I ragazzi hanno avuto tantissimi miglioramenti che ci fa anche riflettere sul livello del campionato perché è vero che immagino a settembre questi ragazzi saranno ancora più forti perché avranno tutta l'esperienza delle due nazionali, Under 18 e Under 20, perché alcuni di questi saranno chiamati anche in Under 20, per cui un bilancio che ci fa capire quanto è possibile migliorare un ragazzo di questa età. Riguardo le nazionali, io sono estremamente soddisfatto della nazionale senior perché ha dimostrato nelle ultime partite con la Slovenia e con la Svizzera che siamo troppo migliorati, i ragazzi hanno una consapevolezza e una disciplina che ci permettono di giocare anche con chi è più forte di noi sulla carta. Riguardo le altre nazionali, diciamo così che l'Under 20 non l'abbiamo quasi mai radunata, però sto vedendo che tutti giocano in Serie A da protagonisti, per cui penso proprio che abbiamo un'ottima squadra. Per quanto riguarda l'Under 18 è molto legata al campus, è molto legata all'ultima esperienza che abbiamo fatto all'MHC, dove abbiamo visto che invece c'è tanto da lavorare per potersi salvare, però abbiamo tanto tempo a disposizione, tanto lavoro a disposizione insieme anche all'Under 20 perché vorremmo che sia gli Under 18 partecipino anche alle competizioni amichevoli stage degli Under 20 per dar loro questa esperienza in più assolutamente necessaria. Ecco, a proposito di questo lavoro complessivo a 360 gradi sulle nazionali, all'inizio del lavoro di questo staff tecnico, della tua direzione tecnica, si era parlato della necessità in primis di dare un marchio di fabbrica al gioco delle nazionali, dai più piccoli fino ad arrivare alla Nazionale Signores. A che grado è secondo te questo processo? Ma è un grado di altissimo livello, nel senso che siamo arrivati a un punto quasi di sinergia totale in tutte le nazionali, vuoi perché in questo momento io alleno sia la senior che l'Under 18, quindi lo stimolo viene dall'unica fonte, però anche l'Under 20 ha giocato in una certa maniera, seppur con delle varianti necessarie perché quella squadra aveva una caratteristica diversa, una panchina non ampissima come quella dell'Asenio, per cui Popovic ha saputo fare le scelte giuste per poter sfruttare questo aspetto qua. Ma senza parlare poi dell'esperienza della 2000 dove quella squadra poi ha fornito almeno 8-9 giocatori all'Asenio, per cui è stato importante e posso dire anche che l'Asenio sta giocando in una certa maniera perché la squadra allenata da Beppe Tedesco giocava in una certa maniera, quindi è un filo conduttore che ha dato i suoi frutti e ne darà ancora.